Diamo il buongiorno Mario Giunta di Sky, buongiorno Mario Buongiorno, buongiorno Buongiorno, ben alzato, colazione tutta a posto, la facciamo insieme come al solito? No, no, tutta a posto Oh, tutta a posto, il momento macine è passato e questa è già una buona notizia, molto molto bene Allora, a Roma c'è il suo Buone, è vero Infatti oggi parleremo anche di quelle meno buone per forza di cose, ci faremo un pochino serie anche con voi Insomma, non è che vada proprio esattamente benissimo Da cosa vogliamo iniziare? Meglio darsi all'Ippica Sarebbe meglio darsi all'Ippica Come sta Nino Giunta? Tutto a posto? Benissimo Stiamo parlando di uno dei cavalli più forti che c'è al mondo Assolutamente Quindi rispetto innanzitutto Ne ridiamo bonariamente per carità, non è una presa in giro, è un professionista questo cavallone E anche disciplina olimpica, purtroppo la vostra ignoranza vi porta a parlare di Ippica Ditto che invece si chiama Giroguione Ma comunque Hai ragione Mario Se l'ha presa bene comunque anche questa volta Ma purtroppo voi non frequentando gli ambienti olimpici non potete capire Ma noi siamo dei pezzetti Giunta, lei lo sa Il muso fuori dall'Italia, ci sono sport che noi non... per esempio in Germania In Germania pensate che il dressage è quasi sport nazionale Così come la palla a mano, cioè sport che noi non calcoliamo proprio No ma partischi, è vero Perché mi importa Pensa mio padre sarebbe stato una star in Germania, lui era nazionale Qua non se l'ha affidato nessuno e quindi invece lì sarebbe stato quasi una star Perché purtroppo qua c'è la cultura del calcio E' questo calcio che non va Mario E' bene parlarne Ecco partiamo proprio da lì Questi giorni sono stati difficili Anche penso perché... Questi giorni fanno schifo Ecco bene Veramente Perché ieri... oggi vabbè oggi siamo salvi Oggi è arrivato il giornale E ho visto che la gazzetta lo sport Ma perché c'è una bella intervista a Mattia Destro Ti è piaciuta? Ecco ti è piaciuta a te? Perché noi siamo rimasti un pochettino basiti Io non commento quello che ha scritto Cecchini Le domande che ha fatto Cecchini Ma io avrei fatto domande diverse Vabbè mi ha detto c'ho E sulle risposte, cioè sul fatto che comunque lui... No a me piacciono molto le interviste a 360 gradi Però insomma sarei andato prima un po' più sul campo Vabbè comunque E comunque la mette da scudetto Destro è parso motivato sul fattore Sì ma sta passando un bel momento Sta passando un bellissimo momento Due gol in due partite Quindi è anche entusiasta lui del... Oltre che del momento personale Insomma vede la Roma in maniera positiva Sì sì Quindi è giusto È giusto anche se ormai credo Ormai credo insomma che sia molto molto complicato Però vabbè comunque insomma Ha ragione destra Ha ragione a sognare anche il Brasile Anche lì credo che sia un paese molto 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 difficile Certo e se fa altri 15 gol nelle prossime partite Ovvio che Prendelli lo debba prendere in considerazione Mi faccia molto ridere la musica che ascolta Insomma a me piacciono molto queste domande Che gli che vengono fatte Lo prendono in giro Danza Futuro I voti Forconi Non prendono le domande Perché poi leggo le risposte Dei calciatori che sono risposte insomma Un po' cambiate per Perare Però comunque nel complesso Quanto meno Quanto meno No hai ragione che ha riportato Intanto la Roma in prima pagina sulla gazzetta Che fa sempre piacere Ma soprattutto il calcio Ha riportato il campo Invece nei giorni precedenti che è successo? No ma se ti guardi Dottor Grasselli Mi dica Io ho preso la prima pagina La gazzetta dello sport E c'era Ieri era No? Era ieri Sì Aspetta Guardi che ce l'ho ancora Nel cestino La vado a riprendere Allora L'apertura è scommessa continua Sì Ok Con l'inchiesta La svolta Con Gattuso Che si difendeva Mai truccato Poi Taglio alto Derby senza curve Per i cori antinapoletani Poi di spalla Calciopoli Moggi condannato anche in appello Mamma mia Mamma mia Sotto Nuova giustizia sportiva E con i cancelli Etnass Sassuolo Acerbi E dramma vero Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No 10 10 notizie In prima pagina 1, 2, 3 4 4 Che non parlano di drammi O cose brutte Nel calcio Che se uno volesse fare E una parla di NBA E 3 Parla una del mondiale del club Insomma fate voi Che se uno volesse fare Tipo Sai quelle foto che appaiono Su Facebook Con i montaggi Delle prime pagine Dei quotidiani Per esempio Non so Quando ci sono le castronerie Di mercato Che vengono montate Così È davvero la morte È lì che dico io Eh sì Giunta Tare un po' un secondo Perché diamo il buongiorno Anche a Luca Pelosi De Romanista Luca Buongiorno Buongiorno a tutti Senti e nonna Buongiorno Cominciamo a pensare Che il suo Blackberry Anche oggi Avesse fatto qualche scherzetto E invece È con noi Pensavi che il Blackberry Fosse un blackout Ecco Niente Nel Un simpatico humorista C'è poco da fare Allora Luca Parlavamo in realtà Delle pagine nere Del calcio Cioè Mario Ci ha fatto una mini rassegna Degli ultimi giorni Praticamente Flash Così con Gli ultimi lanci Tra calcio scommesse Calciopoli Acerbi Eccetera eccetera Noi oggi Torneremo a parlare Positivo Hanno veramente Molto molto poco Mario Ridotte la parola Perché stai ovviamente Facendo un discorso Poi facciamo intervenire Anche Luca No io Allora di calcio scommesse Sono veramente Sono veramente poco Perché è chiaro Che va Queste vicende Vanno seguite dall'inizio E poi Hanno tanti Tanti di quegli sviluppi Che veramente Rischi di perderti Quindi Non so La seguo La leggo Ma non ho mai Approfondito il discorso Quindi direi soltanto Delle bagianate Su questa Su questa Su questa cosa Oggi leggo Che spunta La gente Del cinese M'ho chiesto Cinese È Wang Chu Ching Chiamato Massimo No ogni volta Ogni volta Si parla sempre Ad Spuntano queste agende Che fanno tremare Fanno tremare il calcio Poi obiettivamente Vai a leggere I documenti Di questo benedetto Di questa benedetta Procura di Cremona E obiettivamente Sembrano Uno dei documenti Scritti da Diciamo Lo scrive pure io E due Delle accuse Ovviamente Secondo me Che non hanno Delle fondamenta Molto 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 Solide Quindi Mi sorprendono Delle volte Specialmente Per quelle persone Da virgolette Cosa succede Qualcosa Qualcosa sta succedendo È Belusi Non so cosa stia facendo Specialmente Quando si tirano in ballo Personaggi Per virgolette Importanti Come Gattuso Brocchi Eccetera Perché poi Parliamoci chiaro Tutti 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 i personaggi Che sono usciti fuori Da questi filoni Delle scommette Specialmente Quelle di Cremona Sono personaggi Veramente inutili Per la storia Del calcio O dei personaggi Veramente Che contano davvero poco Come succede Il nome di Grasselli Grazie Della Della signorina Lì Quella roscia Che c'è Quella Quella è proprio bello Sì Quindi Non ne so Poi La vicenda De Gori De Gori Ormai sta diventando Obiettivamente E noi dicevamo Mario Che una pena Dovrebbe Innanzitutto Si a parte Che la vicenda È totalmente ridicola Ma che una pena Dovrebbe servire Per migliorare Il sistema E non Lo peggiora Lo peggiora Lo peggiora solo Ripeto È il fallimento Totale Della legge Maroni Della tessera nominale Della tessera del tifoso Delle telecamere Dei tornelli Di Dizio Paperone Che ti accoglie All'ingresso Di tutto È il fallimento Totale Totale Su tutti i fronti Della legge Del dottor Maroni Che È uno Dei 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 fautori No Si si Porta bandiera assoluto Che l'ha Che l'ha voluto E credo Che Credo Che la soluzione Non si troverà Ripeto È difficilissimo Trovare la soluzione Bisogna Educare le curve Ma Educare le curve È un processo Che ci vogliono Sono meno dei millenni Non è che Lo fai dal giorno Alla notte Sarebbe interessante Sarebbe interessante Intanto Scusate Sarebbe interessante Capire Io non ho capito Qual è il problema Cioè Duvano che dice Trovare la soluzione Qual è il problema Ma pure Il problema Il problema Fino a che È la violenza D'accordo La violenza è un problema E va risolto E non l'hanno risolto Perché Qualcosa continua ad accadere Nel frattempo Gli stadi si svuotano Cioè Loro volevano togliere Le violenze dagli stadi E invece hanno tolto Stavamo dire Piano piano tutti Tranne i violenti Ma il problema È un coro Questa è una bella domanda Peraltro anche presunto A volte Quindi Tra l'altro presunto Tra l'altro Vedo A ragione galliani Si stanno incartando Su loro stessi Si stanno incartando Su loro stessi Non so Quanto volontariamente Quanto no Però Se siamo arrivati Al punto Che Non si vuole Neanche parlare Poi è evidente Che stare il burassista Non bisogna farlo Non è questo il punto Ma Insomma Ci vuole anche Un minimo Cioè Il calcio esiste Da Da più di cento anni Perché a quel punto Ti appiglia a tutto Gli insulti Sulla discriminazione Territoriale Ci sono sempre stati E sono diventati Un problema Nel 2013 Sì Ma ripeto Luca Tra l'altro Hanno ragione Io sono Completamente Dalla parte delle società In questo caso E hanno ragione L'elettricità Ha ragione Le società L'hanno Le società C'erano Quando è stata decisa Questa norma No 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 Attenzione Quella sulla discriminazione Razziale No È stata una norma Presa dalla federazione Dalla corte di giustizia Ma in consiglio federale Le società ci sono Non lo so Quanto potere abbiano Per esempio Perché se no Perché se no Non ci sarebbe Tutta questa Diciamo Sollevazione Specialmente Da parte Dei grandi Club Su Su questa Su questa vicenda Eh ma Si sono Sollevati Secondo me O non si sono resi conto Oppure Non Esatto O non si sono resi conto Della gravità Che andava in conto Esatto Perché Allora I tempi I modi Gli strumenti Per protestare C'erano Fin dall'inizio Tu mi dirai Non hanno potere Può darsi Ci sto Perché se il consiglio federale Poi a maggioranza Decide una cosa È chiaro Ma lo sapevano E ne erano a conoscenza Il problema Non può uscire Solo quando Vengono pizzicate Anzi In particolare Solo quando vengono pizzicate Le sfade più importanti Attenzione Che poi Questa cosa Sta diventando Pericolosissima Perché Domenica Domenica Che c'è il derby di Milano Il derby di San Siro E non ci sarà la curva dell'Inter Che si radunerà fuori Ci sarà La curva del Milano Per solidarietà È una cosa gravissima È la morte del Calcio È la morte del Calcio Ma poi io rispetto Per carità Il pensiero Della curva del Milano Ci mancherebbe altro Sono dinamiche Tra un Se vogliono poter stare Non è il diritto di calcio Assolutamente Non sto dicendo questo Dico soltanto che Uno La morte del calcio Vedere il derby di Milano Senza le due curve Voi immaginatevi Il derby di Roma Senza la curva della Roma Della Lazio Che cosa possa essere E secondo Parlano tanto di violenza Ma Una miccia Una miccia Potrebbe far succedere La guerra civile Fuori San Siro Eh sì Perché sono tutti fuori A quel punto Potrebbe succedere di tutto E voi sapete bene Che in questo momento storico Voglio dire Ci vuole un attimo Ci vuole un attimo Anche un ciao Detto in maniera Sbagliata Tra un poliziotto Un tifoso Tra un amico Di un amico Di un'altra tifoseria Ci ha detto tutto Mi sembrano banalità Dette da una persona Che pensa che è Mario Che sono le stesse cose Che direi io E che mi sembra assurdo Che non ci si arrivi Invece dalle persone Che contano Cioè le cose stanno Esattamente così Che contano A me delle volte Però occupa Che pensino davvero Sono sicuro che pensino Delle volte Secondo me in maniera Sbagliata Perché su queste situazioni Secondo me bisogna Davvero pensare Terra a terra Bisogna davvero pensare Come pensano Persone come noi Abbiate pazienza Persone che poi Non sono deputate A prendere decisioni Importanti nella vita Quindi anche se Possono sembrare Me ne rendo conto Delle cose Già dette mille volte Delle banalità Beh questa è nuova Però Mario Perché avere tutte e due Le curve fuori Una perché è squalificata E l'altra perché Ovviamente solidarizza Giustamente Come dice Luca Verso l'altra Poi insomma porta Ad avere Sì perché solidarizza Contro il principio Sono riusciti a far unire Anche curve avverse Questo è un record storico Peraltro ci si domanda Poi quanto interesse Ci sia veramente Per l'arginale La violenza Visto che in realtà Poi si decidono cose Che sembrano acuirla In tutti i casi Ma Ma Io volevo chiedere a Luca Invece un'opinione Sulla sentenza D'appello di Calciopoli Commogico Oggi leggiamo Il Calciopoli è frutto Solamente di opinioni Certo No è una vicenda Veramente Cioè Allora Oggi è colpevole Diciamo Non ho bisogno Della sentenza Per rendermene conto Perché Insomma C'è la capacità Di discernere Di leggere E capire Se uno Legge E si informa A materiale sufficiente Per farsi la sua idea Sulla verità Che D'accordo A volte è diversa Dalla verità processuale Ma io I cavilli Poi li lascerei Agli avvocati Che fanno gli avvocati E agli avvocati Che dovrebbero fare altro Ma invece si comportano In avvocati La vicenda È assurda Perché Io Per carità È ovvio Che dobbiamo essere Tutti garantisti E lo sentivo prima Lo diceva Mario Riguardo al calcio scommesso E fino a sentenza Non sei colpevole Quindi Quando sei indagato Non sei colpevole Quando c'è la sentenza Di primo grado Non sei colpevole Quando c'è la sentenza Di secondo grado Non sei colpevole Perché può andare in cassazione Quando vai in cassazione Cominci a dire Che la sentenza Non va bene Sostanzialmente È questo L'iter Quando non si arriva In prescrizione Quindi Insomma Per carità È giusto il garantismo Però Però La verità Comunque Diciamo Io dico Che due anni e quattro mesi Sono pochi Perché Mogi è stato fortunato Nel processo Torniamo Anche perché Uno dei reati È che è una prescrizione È mia colpa Non averlo letto Non mi interessa Ma Insomma È stato Per alcune cose È finita in prescrizione Chissà se questo Se ne sono accorti Gli juventini Che accusano Gli interisti Di essere prescritti Come se fosse un'onda E i juventini Che invece Sono a loro volta Prescritti già Per il doping Dalla cassazione In questo caso Quindi a sentenza Definitiva Perché se Dove la cassazione Ha scritto Che il reato c'era Ma che È intercorsa La prescrizione Però loro sono in grado Di contestarti anche questa Capito Quindi E allora Vincono sempre loro Ad altronde È questo il motivo Per cui hanno scelto Di essere juventini Perché vincono sempre Perché faceva Il giunta Per motivi Che derivano Dalla stagione fredda Oppure per Per una volontà Di intervento Sulle parole di Luca No no Niente Ok Allora proviamo a tornare Al campo C'era intervista Di destro Luca Prima Mario Senti possiamo fare Un boccalupo A Cerbi Sì 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 Assolutamente Ad A Cerbi Assolutamente Sì Ma proprio forte Con tutto il cuore Soprattutto Visto Qualche parolina Era uscita Che merita Insomma Di essere Annotato come vergognoso Sì Chi ha scritto Determinate cose Vabbè comunque Stra d'accordo Stra d'accordo Maledizione Scusate Ma Questo Questo qua Che è evaso Da Da Genova A me Mi ha un sacco di paura Lui non è evaso Lui è stato dato un premio Perché per buona condotta Questa è tutta da verificare Esattamente Non è più tornato A Genova A 55 anni Minaccia un panettiere Scappa in auto Uccise tre persone Ne succedono di cose Giunta C'è anche Il sesto permesso Che veniva dato Poi dice Il carcere Per noi Solo un rapinatore Sotto La polizia avverte Armata è molto pericolosa Sì Peraltro Ha sulla coscienza Tre vite Insomma Quindi solo un rapinatore Parliamo Sì Due donne e un trance Ecco Ed è bellissimo Il gramellini Vi capite leggere Anche di quegli ascoltatori Lui ipotizza Che cosa Avrebbe detto Insomma Il giudice Prima di concedere Il permesso Di soggiorno Bisogna sempre leggere Sempre 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 Tutti i giorni Sì Per forza Soprattutto la catonica Legge soltanto Dovolino Ma senta Giunta Cortesemente Lei che fa la rassegna stampa Tanti alle macine A mezzogiorno e 25 Si vergogni Cinque minuti Torniamo al campo Detto ciò E parliamo con Pelosi Metta Dovolino In rassegna stampa Se la vuole fare Tanta roba Guarda che I fumetti ce li metterei come Sarebbero molto più educativi Tante volte Ma vabbè Anche perché per esempio Altri tipi di notizie Sono quelle che riguardano L'impiegata Del consigliere regionale Che ha messo a contratto Il dover fare sesso Per quattro Bello Meraviglioso Ma l'ha firmato anche lei L'ha firmato anche lei L'ha firmato Salvo poi dire Non volevo Avevo paura Ma che meraviglia Che meraviglia Scritto testualmente La donna doveva stare Insieme al suo assessore Almeno quattro volte In un mese Per fare l'amore Certo Virgolettato Cosa Che è questo entusiasmo 1200 euro più bonus Questa è stata la firma Come anche Però così abbiamo completato C'è la Madia Che è la nuova Diciamo quella Che dovrà organizzare Le riforme sul lavoro Per il nuovo PD di Renzi Che va convinta Di andare al Ministero del Lavoro A Via Veneto E convinta di parlare a Giovannini Invece va nell'ufficio di Zanonato Che è il sviluppo economico Gli dice Tutto quello che lei vorrebbe fare E Zanonato le risponde Io purtroppo sono Del sviluppo economico La porta La porta alla finestra E col ditino Riindica Guardi Il Ministero del Lavoro È dall'altra parte Della strada Stiamo parlando di persone Fuori da un contesto sociale Non lo so Mario Ma così Ma voglio dire Ma 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 A Fantozzi non c'era Tutto ciò Nella vita invece Assolutamente sì Peraltro stamattina L'ho chiamata la Madia E poi io Devo andare a parlare con Pelosi E vado a parlare con Italo Cucci Esattamente Capito E Cucci la porta alla finestra Lei dice Guardi Io sono molto contento Che lei me Ma di queste cose Si occupa Pelosi Guardi È l'ufficio di Pelosi È dall'altra parte Della strada Stiamo parlando E lei che risponde No la devo prendere Perché la risposta È troppo bella E voglio leggere Il sviluppo del Stato E la Madia Che dice Allora Ma la devo prendere Eccola qua Ma scusi ministro Ma non sei te Che ti occupi di lavoro No Madonna Una cosa Imbarazzante Una cosa Imbarazzante Ma una cosa Imbarazzante Questa gente Dovrebbe essere portata Portata in esilio Dovrebbe essere portata Sì E invece la paghiamo noi Pensi Perché sono statali Roma senza Strootman e De Rossi Come la mettete in campo Voi che ne sapete Più di noi Che ne sappiamo Meno di voi Con quelli che ci stanno Con quelli Quelli che sono rimasti Giunta lei è un idiota Come gli schiera Quelli che sono rimasti Pelosi Trequartista Lorenzi a centrocampo Ecco Questa è la prima Certo Sono d'accordo con Luchetto Florenzi Centrocampo Insieme a Bradley E Pianic Non c'è assolutamente Alternativa Pensate che a San Siro Quando Pianic Ha preso la linea Ha preso dall'altro Titanica Perché Ho pensato a voi Cioè? È perché voi Lo insultate sempre Pianic Scusate Bradley Ah Bradley L'uovo 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 Facci Pianic Ma lì Sono fatta che lì È una cosa veramente strana Lì è Secondo me È cambiata la votazione terrestre Su quel pallone E comunque non ha concluso una cippa lipa Bradley a Milano Quindi Se stava in Australia era gol Sì Siamo d'accordo Era una questione di gravità È vero Perché in Australia il vader gira al contrario No È bravo Perché la votazione della palla Sarebbe stata nel senso giusto Così come nel secondo tempo Poi Non so se avete in mente la pallina Quando viene inserita all'interno della roulette Che fa E la testa di Bradley E talmente tanti spigoli Lui ha provato a prenderla E poi là Dipende dallo spigolo che esce È uscito quello sbagliato Non ancora provare sull'estratto Lì è la differenza tra Ad esempio Gioratore Di gran di qualità Quindi Tridente È uno che vabbè A chi il compito di regista Quindi a questo punto Posto il terzetto Pjanic Bradley Florenzi A chi il compito di volante Davanti alla difesa Bradley O Pjanic Luca No davanti alla difesa Comunque Per come si Per quelli che sono i movimenti della Roma Deve andarci Bradley Perché Spesso poi Chi sta in quella Posizione È debutato anche Da andare a dare una mano A centrali difensivi E quindi Comunque è più adatto lui Pjanic È sempre meglio Averlo più vicino alla porta Secondo me Sì Un maggior libertà di mani Sì Non tanto perché Figni lui Però perché Sì È uno dei Insomma In grado di creare È meglio che Mantenirlo in maniera tale Che possa creare più pericoli Agli avversari E da qui però Io vorrei sempre Giordare che Forenzi è un centrocampista Sì È vero Nasce regista peraltro Nella primavera Ma da qui Allora la domanda successiva Ha fatto tutti i ruoli Ha fatto anche il terzino a Crotone Povero Florenzi Sì è vero Ha fatto un po' tutto Anche il ministro del lavoro È vero Anche il ministro del lavoro Ma se Florenzi va a centrocampo A questo punto Chi gioca al posto di Florenzi In attacco E quindi Come sarà composto Il tridente offensivo della Roma In Roma-Catania Mario stavolta Partiamo da te Io credo che tutti inizi dal primo minuto Sì Questo contro Contro il Catania Non credo Non credo ci siano Tatti Dubbi Gervinio non può uscire Da questa squadra No Gervinio è la vita Un'ultima domanda Quindi destro o Liac Come? Destro o Liac Rimangono loro Per come sta in questo momento Anche di testa Forse destro Ma è chiaro Che poi ci sarebbe Una staffetta Con Liac Io Sono sempre un po' più preoccupato Per questo Per questo giocatore Spero che Insomma ci sia Una scossa Ma non tanto tecnica Perché le 12 L'ha Ma una scossa Di Non lo so Mi devono fare Un'iniezione Di personalità E di vitalità A livello di testa Quindi dici tu Luca tu invece Come lo vedi Adem Liac Eh insomma Io veramente Non riesco a capire Che problemi abbia Anche perché lui Ha avuto la fortuna Di giocare tanto È vero Se poteva esserci Un minimo dubbio Sul fatto che c'era Tanta non correnza In attacco A parte le prime partite Poi dopo Anche per gli infortuni Degli altri Ma come cose che succedono In un campionato Le sue occasioni Le ha avute Si è un po' Perso Anche facendo delle cose buone Perché per esempio Con una partita molto ludinese Fu uno dei migliori in campo E col Sassuolo Fu più sfortunato Che impreciso Secondo me Però ecco Si è fermato un po' lì Però ecco Veramente non riesco a capire Che tipo Che problemi Il perché Questo spazio Ce l'ha avuto Dopodiché Venendo a Roma Catania Secondo me Gioca Perché penso Che Garzia Non voglia perderlo Per non perderlo Devi farlo giocare Devi farlo giocare Voi l'ipotesi 4-2-3-1 La escludete Il Corriere oggi Ce la propone Tra le varie soluzioni Per domenica Comprate le pianici Davanti alla difesa Ovviamente Gervinio Dotti E Florenzi Dietro a mattia a destra Unica punta No io no Io sono contrario Perché avere Brazzi e pianici Davanti alla difesa Significa avere solo Brazzi davanti alla difesa Comunque Pianici Significherebbe un 4-1-4-1 Perché Pianici Se gli chiede di coprire Pianici Si mi fa ridere Sì Anche ragione Detto ciò Credo che Garzia Non abbia proprio intenzione Di cambiare comunque Il sistema di gioco Non così radicalmente Da una giornata all'altra Con tanti assi O tra l'altro Secondo me tra l'altro Qualora non si volesse Snaturare proprio la Roma Ha diciamo Ha il suo attacco titolare Che è quello Su me Gervinio Dotti E Florenzi Non è da escludere L'interimento Secondo me di Taddei A centrocampo Dal primo minuto È una previsione Ah vedi La sorpresa È una previsione La sorpresa aggiunta Sì è vero È un'altra previsione E ve ne propongo un'altra invece Prima di lasciarvi Perché siamo un po' in ritardo Però questo Il coniglio Che è meglio di Marchigno Meglio Sì sono d'accordissimo Con te Mario Assolutamente d'accordo Ha un'affidabilità Completamente diversa Taddei Rispetto a Marchigno Dal cilindro per Grasselli Questa mattina Un'idea dell'ultima ora Sì Ed vai al posto di Nel ruolo di Daniele De Rossi Visto nel precampionato Eh sì ma nel precampionato Non si gioca per tre punti Quindi no Importantissimi peraltro Sì sarebbe troppo rischioso Secondo me Sarebbe troppo rischioso Buttarlo così Dal primo minuto In un ruolo non suo In un ruolo non suo Ma secondo me Poi Mi raccontano anche Le capacità per farlo Però Ragazzi io non ho visto Neanche veramente Un minuto Come dice Luca Poi di una partita Che conta E poi Paese che va I giocatori che trovi Ecco vabbè Su questa possiamo Salutarci secondo me Tutto molto bello Giunta si strozza Dalle risate Se sono amici C'è un perché D'altra parte Fesso uno Fesso anche l'altro Però è sempre un piacere Avervi con noi Fesso più fesso Esattamente Giunta la chiameremo Anche per avere un briefing Su Masterchef Che questa sera va ad iniziare Ho un problema Stasera io Lavoro fino alle 23 Giunta non può fare questo Stasera deve guardare Masterchef E poi ho la scena natalizia Di Sky Che cucina Caracco Rolex anche per giunta Quindi dopo pallotta Lo registrerò Sky Come si chiama Masterchef Sto facendo voce di Bastianich Sto facendo voce di Bastianich Sente io vi saluto Prima che Flavio Impazzisca del tutto Siamo anche in ritardissimo Grazie mille Mario Giunta di Sky Luca Bellosito Romanista È sempre un piacere Oh siete forti Ciao ciao Buona giornata Buon weekend